da bambino mi hanno sempre detto che la magia non esiste ma ho scoperto che esiste un luogo un luogo dove tutto si avvera pieno di paesaggi meravigliosi tradizioni eventi cultura e divertimento questo posto è il frignano il frignano ti conquista ti avvolge i suoi angoli meravigliosi entreranno in te e l'accoglienza della sua gente ti farà sentire a casa il frignano ti aspetta un posto dove passato presente e futuro si incontrano audio channel Grazie per la visione!